buongiorno buongiorno cari radio ascoltatori web spettatori abbiamo mandato questa colonna sorora end of days è molto bella secondo me visto anche il giorno che stiamo che stiamo attraversando e ciao alessandro buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori ecco abbiamo fatto questo breve breve inizio appunto per così per ricordare questa data così nefasta degli ultimi anni non solo dell'ultimo anno ma degli ultimi tre anni quindi il 24 febbraio rimarrà nella storia dell'umanità credo a te la parola dai cominciamo a allora oggi è una puntata un po particolare perché invece di continuare a seguire la storia di gesù dopo la crocifissione parleremo di tre personaggi perché ho fatto questa scelta poi nella prossima puntata continueremo la storia di gesù dalla crocifissione fino alla sua morte nell'avvenuta nel 68 dopo cristo parliamo di tre personaggi di cui si sa pochissimo di eh di giuseppe e di maria maddalena e di paolo di tarso ora eh abbiamo stiamo iniziando a capire il motivo per cui eh questi di questi personaggi eh è stato scritto poco niente perché appartenevano alla famiglia degli erodiani ed erode grande eh è stato un personaggio molto scomodo in quanto uccise eh mogli figli eh zii cognati eh suocere di tutto e di più e eh sarebbe stato impossibile eh creare il figlio di Dio sul figlio di erode primo perché era un essere umano secondo perché anche un eh pluriumicida assassino su Maria ne abbiamo già parlato abbastanza abbiamo visto che era eh la terza moglie terreno del grande e che partecipò ad una cospirazione per uccidere suo marito insieme ad altri personaggi Stefano se io ti mh dico no eh cosa sappiamo noi da Vangeli di Giuseppe che cosa ci hanno raccontato fino ad oggi sappiamo che era il figlio di un povero falegname ci hanno detto dopodiché non si sa assolutamente nulla di questo personaggio e quindi perché hanno tenuto la nascosta la storia di questo personaggio così come di Paolo di Tarso di chi era figlio non si sa assolutamente nulla di Maria Maddalena sono personaggi che eh entrano in gioco senza che eh nessuno eh dica nulla eh sulla loro famiglia sulla loro genealogia allora ho deciso di fare questa puntata su questi tre personaggi importantissimi perché poi tra l'altro Paolo di Tarso sarà quello che creerà la dottrina del cristianesimo una dottrina che eh ha poco a che vedere poi con il Gesuanesimo eh che portava avanti eh che portava avanti poi tra l'altro Gesù ho voluto fare questa puntata per far capire alle persone su questi personaggi uno perché ci sono voluti tanti anni per cercare di capire eh di ricomporre questo mosaico incredibile attraverso delle genealogie pazzesche e per far vedere eh quanto poi sia sia stato complicato venire a capo di tutte queste eh informazioni e ricostruirle in chiave storica attraverso dei documenti storici quindi anche se sarà una puntata un po' complessa nei nostri libri troverete tutte le tabelle genealogiche riuscirete a capire eh tutto quanto ovviamente nei video noi daremo solamente pillole di informazione e partiamo subito con il primo personaggio questo Giuseppe di cui non si sa assolutamente nulla ci viene detto che era un povero eh falegname in realtà il termine usato è il tecton che vuol dire eh costruttore quindi non era assolutamente un povero un povero falegname dopodiché non sappiamo assolutamente nulla di questo personaggio se non che eh fuggì insieme a Maria cercati da Erode e che arrivarono in Egitto ma di questa vicenda ce ne siamo occupati eh nelle puntate precedenti allora risaliamo un attimo attraverso la storia a vedere che cosa è successo e eh ricostruiamo la storia di questo Giuseppe eh questa storia inizia quando eh potresti far vedere un attimo la genealogia che parte da Antipa Stefano quando inizia quando un eh no quell'altra quella successiva il riquadro dopo altrimenti giriamo la lanagna eccola perfetto questa qui iniziamo a vedere questa genealogia noi abbiamo Antipa che è il nonno del grande no 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 ritorna su quella prima rimane no e purtroppo purtroppo non è possibile perché l'ho trasformata in video non abbiamo avuto tempo per farlo ah ok io allora quindi no io lo faccio lo faccio andare in rolling poi ecco eh poi giriamo la lavagna e quindi risolviamo il problema Antipa ebbe due figli Antipatro e Giuseppe quindi sono fratelli Antipatro era il padre del re Erode il grande che poi abbiamo visto sposerà come terza moglie Maria Boeto da cui ebbe Erode e Gesù questo Erode sposerà Erode Giuseppe questo Giuseppe qui ebbe tra i suoi figli Teuda Doris che diventerà la prima moglie del re Erode il grande Giuseppe cugino del re Erode il grande quindi questi sono tutti cugini del re Ero del grande facevano matrimoni tra di loro e poi Achia sempre cugino del re Ero del grande queste documentazioni le abbiamo ritrovate grazie allo storiografo di Flavio Giuseppe tra l'altro questo Achia era il padre di Zaccaria padre a sua volta di Giovanni Battista quindi da questa genealogia già vediamo che Zaccaria e Gesù erano cugini di secondo grado essendo Erode cugino di Achia e possiamo vedere la genealogia di Giovanni Battista che era il figlio del cugino di Gesù che cosa è successo a livello storico? questo Giuseppe è zio del re Ero del grande Antipatro è il padre di Erode quindi Giuseppe essendo fratello di Antipatro è lo zio di Erode ed è il padre di Giuseppe cugino del re Ero del grande innanzitutto le documentazioni rabbini che gli asciutò le donne e altri scritti ci danno un'informazione che Maria era sposata con un legionario romano bene Flavio Giuseppe ci dice che Giuseppe cugino del re Ero del grande sedò una rivolta in Giudea sotto il governatore romano Varo e quindi questa informazione che ci hanno trasmesso le fonti ebraiche era fondamentalmente giusta successe una cosa molto particolare la seconda moglie del re Ero del grande si chiamava sempre Maria e apparteneva alla classe regale degli Asmonei questa Maria aveva un fratello Aristobulo era molto piccola aveva all'incirca 17 anni e la mamma di questa Maria Asmonea che si chiamava Alessandra figlia del re dei Giudei Alessandro Ianneo voleva che Erode gli desse il sommo sacerdozio ma Erode non voleva perché lo riteneva troppo piccolo per questa funzione e ci racconta lo storiografo Tito Flavio Giuseppe cosa successe Alessandra invitò Erode in una cena insistette sul fatto di dare il sommo sacerdozio a suo figlio Aristobulo e Erode il grande diede l'ordine ai suoi servi di annegare questo giovinetto Aristobulo simulando un incidente e lo fece annegare dentro la piscina Alessandra capì che sotto questo finto incidente c'era la mano di Erode e che Erode aveva dato l'ordine di annegarlo e quindi che cosa fece? Lei era molto amica della regina Cleopatra la regina Cleopatra VII d'Egitto che tra l'altro nel libro che uscirà Oltre il velo di Iside dimostreremo che era la mamma della terza moglie dell'Erode il grande Maria Boeto mamma di Gesù e quindi Cleopatra era la nonna di Gesù e quindi che cosa fece Alessandra alla suocera di Erode il grande? Si rivolse alla regina Cleopatra d'Egitto dicendogli che Erode aveva dato l'ordine di annegare suo figlio e di rivolgersi quindi a Marco Antonio per farlo processare Marco Antonio chiamò per sottoporlo a processo Erode il grande a quel punto Erode il grande aveva paura che Marco Antonio potesse ucciderlo lui era sposato con questa Maria la sorella di questo giovinetto Maria Asmonea la sorella di questo giovinetto che fece uccidere era una donna bellissima ne era innamorato e aveva paura che nel processo potesse giudicarlo colpevole Marco Antonio e quindi lo potesse uccidere non sopportava l'idea che se Marco Antonio lo avesse ucciso poi Maria la sua seconda moglie potesse poi andare e avere relazioni sessuali con altri uomini e quindi che cosa fece chiamò suo zio Giuseppe il fratello di Antipatro padre di Erode e gli disse devo andare da Marco Antonio per subire questo processo ti lascio in custodia il mio regno e anche mia moglie siccome non sopporto l'idea che se Marco Antonio mi uccida lei possa avere rapporti sessuali con altre persone nel caso in cui Marco Antonio mi uccidesse tu uccidi Maria dopodiché Erode andò da Marco Antonio Marco Antonio e Erode erano stati coinvolti Erode aveva aiutato Marco Antonio durante le guerre erano alleati fatto sta che in questo processo poi Marco Antonio non incolpò assolutamente nulla di questo omicidio Erode il Grande e anzi ritornò Erode con nuovi patti di alleanza con Marco Antonio quando Erode tornò che cosa successe? che la sorella di Erode che era Salome Salome era sposata con questo Giuseppe la sorella di Erode il Grande accusò suo marito Giuseppe disse ad Erode di aver avuto rapporti sessuali con la moglie Maria e Erode il Grande andò su tutte le furie chiamò sua moglie Maria Asmonea da non confondere con Maria madre di Gesù e lei sai cosa succede come sempre in questi casi le donne non si sa se sia vera o no questa storia che ebbe questo tradimento con lo zio di Erode Giuseppe lei accusò Erode il Grande di accusarla ingiustamente che non era assolutamente vero che era tutto falso questa storia fatto sta che Erode il Grande credette alla fine alla moglie a questa Maria e decise di non fare niente un bel giorno poi Maria che cosa fece rinfacciò ad Erode il Grande il fatto che il suo non era vero amore verso di lei perché aveva dato l'ordine al suo sio Giuseppe di ucciderla nel caso in cui Marco Antonio lo avesse ritenuto colpevole dell'omicidio di questo giovinetto Aristopolo e lo avesse ucciso a quel punto Erode il Grande andò su tutte le furie perché l'ordine che aveva dato al suo sio Giuseppe era ovviamente un segreto che doveva rimanere tra Erode e Giuseppe e quindi disse questa è la prova che c'era veramente qualcosa tra di voi e quindi era vero il fatto che tu mi hai tradito con mio sio Giuseppe tant'è che fece uccidere poi la sua seconda moglie Maria non solo ma fece uccidere anche suo zio Giuseppe quindi i figli di questo Giuseppe Teuda Doris Giuseppe Aghia avevano tutte le ragioni nel potersi vendicare del re Erode il Grande e quindi di complottare per ucciderlo e noi abbiamo visto che cosa che nel complotto nei confronti di Erode entrò la terza moglie Maria Boeto madre di Gesù e di Erode che sposò Erodiade entrò Teuda da cui poi Maria ebbe quattro figli Giacomo Giuseppe Giuda e Simone entrò Doris la prima moglie di Erode il Grande madre di Antipatro lui fu l'artefice principale di questa cospirazione e soprattutto anche Giuseppe con cui Maria fuggì quando Erode il Grande scoprì queste cospirazioni attenzione perché Gesippo citato da Giuseppe Cesarea ci fa sapere che Giuseppe e Teuda erano fratelli non solo l'altra informazione che ci dà Tito Flavio Giuseppe è che Teuda e Doris erano fratelli in quanto Teuda era lo zio del figlio di Doris di Erode il Grande cioè Antipatro e da qui siamo riusciti a ricostruire tutta la genealogia di questi personaggi attraverso dei documenti storici quindi il nostro Giuseppe che diventerà padre putativo di Gesù partecipò e come a questa cospirazione contro il re Ero del Grande non solo ma così come Teuda aveva tutti i motivi per cospirare contro Erode in quanto Erode aveva ucciso il loro padre cioè suo sio Giuseppe a questo punto poi siamo andati come vi ho detto a fare tutti i collegamenti tra Teuda Giuseppe tramite gli apocrifi tramite altri storiografi di quel periodo tramite anche di Toppalavio Giuseppe che ci fa sapere che se do una rivolta sotto e sotto il governatore varo quindi era effettivamente perlomeno se non un ufficiale di alto rango un legionario romano tra l'altro insieme a Grato e Rufo ci fa sapere Flavio Giuseppe se do questa rivolta dei giudei e questo è il quadro generale e la genealogia di Giuseppe cugino del re Ero del Grande e attenzione questo ce lo dice Tito Flavio Giuseppe figlio a sua volta di Giuseppe e zio di Ero del Grande questo è il motivo per cui è stata occultata l'intera storia e genealogia di Giuseppe padre putativo di Gesù perché padre putativo perché quando Ero del Grande venne a scoprire questa cospirazione noi troveremo Maria terza moglie di Ero del Grande in Egitto con Teuda e ci dicono sempre la seconda apocalisse di Giacomo testi copti ritrovati e annagammati che ebbe da Teuda Giacomo fratello di Gesù Giuseppe Giuda e Simone abbiamo svelato il primo quadro su chi era questo Giuseppe altro che povero faregname era il cugino del Rero del Grande Giuseppe padre putativo di Gesù perché diventò padre putativo di Gesù perché Teuda poi tornò in Egitto intorno al 4-5 dopo Cristo dopo la morte di Erode tentò una sommossa e fu ucciso a quel punto Giuseppe fratello di Teuda si prese custodia dei figli che Maria Boveto ebbe con Teuda cioè Giacomo Giuseppe Giuda e Simone e anche di Gesù abbiamo visto fino a qui chi era questo Giuseppe adesso andremo avanti col secondo personaggio che è Paolo di Tarso prima di andare a passare al secondo personaggio Paolo di Tarso ci sono domande qualcosa da chiarire da parte dei nostri ascoltatori o è tutto chiaro Stefano qualcuno vuol fare una domanda può alzarla a mano adesso ragazzi mi rendo conto che quando si parla di genealogia è difficile capirlo però se qualcuno vuol fare una domanda così almeno non andiamo avanti e poi magari le domande ci intasiamo ecco abbiamo Attilio allora abbiamo Attilio Attilio buongiorno Attilio buongiorno a voi per favore vorrei sapere chi è chi era chi è stato chi fu Giuseppe da Arimatea e soprattutto un'altra domanda come ha fatto a resistere duemila anni questa storia semplicemente perché mio padre mi diceva tu non devi guardare gli uomini perché se resiste così tanto tempo vuol dire che c'è c'è che cosa bugie grazie allora Giuseppe da Arimatea non c'entra niente con questa storia sappiamo che era parente di Gesù perché solamente parenti di Gesù potevano chiedere il suo corpo al prefetto Pilato era fratello di Ningo Demo e figli di Gurion tutta la genealogia di questi personaggi la troverete nei nostri libri il re dei re e comunque erano parenti della famiglia di Gesù da parte di sua madre Maria Boeto entriamo adesso a parlare di del secondo personaggio aspetta Alessandro abbiamo un'altra domanda da Bat21 Bat21 prego buongiorno io volevo sapere da dove attinge queste informazioni cioè io non proprio per capire io non 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 sto difendendo allora la ricerca interdisciplinare è stata fatta attraverso le fonti ecco grazie grazie mille le fonti le troverete tutte sui libri sono documentatissime abbiamo fatto ricerca interdisciplinare usando testi copti ritrovati a Nag Hammadi e quindi ritrovati nel 1947 in Egitto totalmente indipendenti dagli scritti dello storico Tito Flavio Giuseppe che racconta tutte queste storie che scrisse invece dopo tra gli anni 80 e 90 per Roma tra l'altro scritti in greco non arrivarono assolutamente in Egitto quegli scritti mentre gli scritti di Nag Hammadi furono scritti in copto quindi parliamo di fonti indipendenti quindi abbiamo usato Vangeli apogrifi Vangeli canonici fonti storiche di tantissimi storici Tito Flavio Giuseppe in primis ma poi Appiano Svetonio Dionio Cassio tantissimi testi e documenti storici è stato un lavoro interdisciplinare che è durato tantissimi anni per riuscire a ricostruire questo questo mosaico e ovviamente nei nostri libri ci sono tutte le fonti fonti che poi tra l'altro se le vedete le ritroverete anche su internet quello che era difficile fare gli scritti di Dito Flavio Giuseppe li potete andare a trovare su internet Antichità Giudaiche Guerre Giudaiche eccetera eccetera tra l'altro perché è stata così complessa la ricerca perché nei testi di Nag Hammadi sono due righe dove si parla di Teuda padre di Giacomo fratello di Gesù e quindi marito di Maria Boeto nei libri di Dito Flavio Giuseppe libri così alti di migliaia di pagine è in una in tre righe si parla di questa cospirazione dove la terza moglie di Erotel Grande Maria figlia del del sacerdote di Alessandria d'Egitto Simone figlio a sua volta di Boeto Simone era sacerdote quindi ad Alessandria d'Egitto sotto la regina Cleopatra parla di questa cospirazione dove fu coinvolta anche questa Maria e ci dice inoltre che confessarono anche i suoi fratelli Ioanzaro e Lazzaro ecco l'ultima l'ultimissima cosa scusa ma potrebbe metterle qui sul canale per poter anche dare un'occhiata oppure mi potrebbe scrivere più precisamente dove trovarli io ho capito sì però anche a me per memoria ecco perché magari poi me ne scordo guarda i libri ma stai parlando dei libri dove potete trovarli i libri si trovano su Amazon ovunque basta scrivere il re dei re Alessandro De Angelis abbiamo scritto il re dei re il sosia Jeshua l'ultimo figlio di Erode e i sigari quattro libri su questo percorso adesso uscirà oltre il velo di Iside speriamo il prossimo il prossimo allora Bat21 tu fai la ricerca su Google metti Alessandro De Angelis ci sono tutti poi magari se puoi mettere anche tu il link per acquistare i libri così ecco allora per questo magari mandamelo via Whatsapp mi raccomando mandami il link per acquistare i tuoi libri così almeno prevederli grazie Bat21 prego puoi andare avanti Alessandro ok passiamo all'altro personaggio il creatore del cristianesimo cioè Paolo di Tarso Paolo di Tarso cari signori era il nipote di Gesù quindi che non si conoscessero qualcosa che non stanno in cielo né in terra come siamo arrivati a capire che Paolo di Tarso era il nipote di Gesù sempre attraverso gli scritti di Tito Flavio Giuseppe e gli atti degli apostoli che ci danno tantissime informazioni su questo su questo personaggio che era chiamato anche Saul allora Maria Boeto la terza moglie di Erode il Grande oltre a Gesù ebbe un altro figlio Erode che sposò Erodiade Paolo di Tarso era il figlio di questo Erode che sposò Erodiade insieme a Salome cioè il personaggio che chiederà poi la testa su un vassoio d'argento di Giovanni Battista e di un altro personaggio ancora che si chiama Costobaro come siamo arrivati a verificare tutto questo che Paolo di Tarso quindi era nipote addirittura del re Erode il Grande perché questo Erode è figlio di Erode il Grande e di Maria Boeto ok le informazioni ce le dà ancora una volta Tito Flavio Giuseppe in guerra giudaica e altri scritti dai Vangeli Tito Flavio Giuseppe cosa scrive nei dei suoi scritti allora qui ci dice siamo in lettera ai romani anzi quindi siamo sui Vangeli e ci viene detto salutate questo è Paolo di Tarso che fa i saluti ai romani e dice salutate Apelle che ha dato a buona prova in Cristo e poi aggiunge salutate i familiari di Aristobulo salutate Erodione mio parente quindi sappiamo che questo Paolo di Tarso era imparentato con Aristobulo e con Erodione qui siamo su Tito Flavio Giuseppe ci dà un'altra informazione e dice da parte loro Costobar e Saúl Saúl è il nome di Paolo di Tazzo raccolsero bande di malviventi loro stessi erano di stirpe reale quindi appartenente alla casota della famiglia del Rero del Grande e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa ma erano sfrenati e pronti a sfogliare le proprietà dei più deboli ancora in Tito Flavio Giuseppe cosa cos'altro ci aggiunge ci dice che Saúl Antiba e Costobar erano legati al re da vincoli di parentela poi altra informazione che ci dà è che Costobar e Saúl erano fratelli andiamo a vedere la genealogia di Erode il Grande di Paolo di Tazzo abbiamo detto Paolo di Tazzo era figlio come ci siamo arrivati di Erode e di che sposerà e di Erodeare da tutte queste informazioni ci viene detto che era fratello di Costobaro il primo Costobaro che troviamo era il marito di Salomè la sorella del re Erode il Grande questa Salomè ebbe una figlia Berenice Berenice sposò Aristobolo questo Aristobolo era un figlio di Erode il Grande e della seconda moglie di Erode il Grande di cui abbiamo parlato prima cioè quella Maria Asmonea che fu incolpata di aver avuto relazioni di adulterio con Giuseppe lo zio di Erode quindi questo Aristobolo figlio di Erode il Grande di Maria Asmonea sposò la figlia di Salomè sorella di Erode il Grande e di Costobaro da questo matrimonio tra Berenice e Aristobolo nasceranno Erodiade il re Agrippa I Erode di Calcide ho messo solo tre figli in realtà ce ne sono altri due guardate qui abbiamo sia Erodiade che Agrippa I ecco perché Paolo di Tazzo era legato da parentela con il re Agrippa I Erodeade era la sorella del re Agrippa I ok quindi Agrippa I era lo zio di Paolo di Tarso ed Agrippa II era cugino di Paolo di Tarso tant'è che poi ci ritroviamo Paolo di Tarso negli atti che venne accusato e lo volevano processare gli ebrei perché asseriva nel 52 sotto il procuratore Felice diceva che Gesù era ancora vivo e questo creò una sommossa tra gli ebrei e quando fu chiamato su questa cosa lui si appellò addirittura a Cesare perché diceva di essere un personaggio importante aveva la cittadinanza romana e solo Cesare quindi poteva processarlo per questa cosa e ci ritroviamo in questa quando ci fu questo insieme a Felice questo processo anche Agrippa II e Berenice Berenice di Cilicia che erano cugini di Paolo di Tarso non solo ma come potete vedere da qui Salome e sorella di Paolo di Tarso perché è importante questa informazione perché Salome era sposata con il tetrarca Filippo nel 34 morì il tetrarca Filippo e Salome sposò un fratello di Erodiade cioè Erode di Calcide scusa un figlio di Erode di Calcide che era Aristobulo di Calcide Erode di Calcide era fratello di Erodiade e di Agrippa vedete quindi questo Erode di Calcide ebbe un figlio Aristobulo di Calcide e Salome dopo la morte del tetrarca Filippo nel 34 sposò Aristobulo di Calcide da questa relazione da questo matrimonio nacque Erodione e altri due figli Erodione vuol dire piccolo Erode vi ricordate il passaggio che vi abbiamo fatto vedere prima ecco perché Paolo di Tarso saluta i suoi familiari Aristobulo ed Erode Erodione era il figlio di Aristobulo di Calcide Aristobulo di Calcide aveva sposato la sorella di Paolo di Tarso ovvero Salome e quindi Aristobulo di Calcide era cognato di Paolo di Tarso Cari signori abbiamo collegato tutte le relazioni di parentela di Paolo di Tarso e a questo punto Paolo di Tarso risulta essere nipote di Gesù attenzione perché qui stiamo portando documentazioni non stiamo portando chiacchiere e andiamo al terzo personaggio Maria Maddalena ce ne parlano anche gli apocrifi il Vangelo di Filippo ci dice che Gesù la baciò in bocca era la preferita tra i discepoli eccetera a questo punto noi avevamo capito che tutti i personaggi legati a Gesù appartenevano alla famiglia del Ero del Grande quindi questa Maria doveva appartenere facevano solamente i mantrimoni tra di loro sicuramente a questa famiglia del Ero del Grande l'abbiamo ritrovata come moglie di Erode di Calcide Marianne e Maria Maddalena dopo il processo di Gesù sotto Pilato seguì Gesù tant'è che Erode di Calcide poi sposò Berenice la cugina di Paolo di Tarso Berenice di Cilicia figlia del re Agrippa primo quindi Maria Maddalena inizialmente era sposata con Erode di Calcide fratello di Erode ed Agrippa eccola qui Maria Maddalena era figlia di Giuseppe e di Olimpia Olimpia era la figlia di Erode il Grande e Maltace la Samaritana dall'altro anche Archelao e Tnarca e Antipa erano figli di Maltace la Samaritana e di Erode del Grande quindi erano fratelli di Olimpia Olimpia sposò Giuseppe attenzione non è Giuseppe dei Vangeli questo questo Giuseppe era il figlio di un Giuseppe fratello del re Erode del Grande quindi il padre del re Erode del Grande Antipatro ebbe oltre a Ferone e altri figli Erode il Grande e Giuseppe che erano fratelli figlio di Giuseppe si chiamava a sua volta Giuseppe sposerà Olimpia e da questa relazione l'acqua e Maria Maddalena ecco perché per esempio nella famiglia Orsini Aldo Brandini eccetera se andate a vedere molte delle loro figlie o appartenenti a questa casata si chiamano Olimpia perché poi tra l'altro negli annali ecclesiastici scritti da Cesare Baronio dal cardinale Cesare Baronio a mancato papa ci fa sapere che Orsini venne fatto vescovo nel 46 proprio da San Pietro vescovo in Francia quindi questi personaggi appartenenti a queste casate nobiliari dell'aristocrazia nera la storia la conoscono bene per aver messo il nome Olimpia madre di Maria Maddalena alle loro figlie cari signori e abbiamo messo in mezzo tante genealogie delle storie scusami Alessandro tu parli dei neri cioè di questi potentati neri ma le famiglie se non sbaglio sono cinque in Italia tra cui gli Orsini i Colonna e poi ce ne sono altre Massimo gli Aldobrandini i Tortulonia sono tantissime le casate loro si gli Orsini si allacciarono poi con i Colonna ebbero dei matrimoni con loro ci furono poi guerre interne tra di loro un altro personaggio per esempio è un Aristobolo figlio di questo Aristobolo di Calcide di Salomè che fu fatto vescovo in Gran Bretagna da lì abbiamo poi trovate sotto sul libro Eredere altre casate nobiliari altri banchieri come i Breakspear quindi è proprio in seno a queste famiglie di erodiani che nascerà il cristianesimo non solo io e mio figlio abbiamo perso un'intera settimana ultimamente per ricostruire una genealogia complessa attraverso fonti archeologiche eccetera eccetera dove abbiamo trovato la collusione di Paolo di Tarso con i primi papi li abbiamo smascherati tutti quanti cominciando dal Papa Clemente che appartenevano tutti a classi nobiliari aristocratiche romane Papa Clemente era il figlio di un troverete tutto nel libro che uscirà del prefetto della guardia imperiale di un imperatore quattro imperatori sono stati uccisi Caligola l'imperatore Claudio Nerone e Domiziano e ci fu sempre la lunga mano del cristianesimo dietro gli omicidi di questi imperatori perché vedi Stefano un imperatore da dove è che trae forza dal popolo pane e circensis non devi far mancare il pane e i divertimenti al popolo quindi gli imperatori dovevano allearsi con il popolo per mantenere il loro potere ma questo succede per fare questo dovevano per redistribuire le ricchezze tutti i senatori della Repubblica Romana erano persone ricchissime e gli imperatori spesso toglievano poteri ricchezze a queste consoli senatori romani per aumentare il potere d'acquisto poi al popolo nel libro che uscirà riportiamo ricostruiamo tutta la storia di Nerone ingiustamente demonizzato fatto passare per un povero pazzo incendiario quando invece dimostreremo con documenti storici alla mano che c'è stata la lunga mano di Paolo di Tarso di Pietro in una catena di delitti volti a far fuori imperatori Nerone in primis ma lo stesso Gesù ce lo siamo ritrovato a Roma insieme a Pietro a cospirare contro l'imperatore Claudio imperatore poi ucciso quindi porteremo una serie di documentazioni della collusione tra questi cristiani erodiani con le alte classi nobiliari aristocratiche senatori consoli prefetti romani per favorire che cosa la restaurazione della repubblica a scapito degli imperatori fino a che poi invece fu messo sul trono Vespasiano e Vespasiano era legato alla dinastia di Giulio Claudi e fu Giulio Tiberio Alessandro parente di Maria Voeto poi uno dei principali artefici che lo dichiarò imperatore aveva sotto il suo controllo ad Alessandro d'Egitto ben cinque legioni quando poi fosse data la rivolta che coinvolse durante la prima guerra giudaica l'intera palestina e poi il figlio di Vespasiano Tito bruciò l'intera Gerusalemme quindi ci siamo trovando davanti a una ricostruzione storica che a qualcuno esco intorno al 70 dopo Cristo mi sembra che sia il periodo storico della prima rivolta ecco quindi no anche per avere un po' iniziò nel nel 66 questa rivolta iniziò grazie a un procuratore romano Cessio Floro che per pagare debiti con le sue regioni si prese dei soldi dal tempio di Gerusalemme per pagare questi arretrati e questo causò delle rivolte ma in queste rivolte c'erano anche parenti di Gesù alcuni di questi parenti di Gesù fomentarono questa rivolta contro Roma e invece come abbiamo visto addirittura Paolo di Tarso Costobar e Antipa furono mandati in Grecia da Nerone da chi? dal procuratore Cessio Gallo per a quale scopo? Per giustificare queste rivolte e fargli capire a Nerone che queste rivolte erano scoppiate a causa del procuratore romano Gessio Floro che si era impadronito del Tempio di Gerusalemme che liberava detenuti in cambio di soldi lui ma il procuratore prima Albino eccetera eccetera e quindi furono mandati per cercare di fermare questa rivolta furono mandati in Grecia da Nerone dopodiché ce li ritroveremo questi personaggi a Roma ma Paolo di Tarso ebbe numerose collusioni con importantissimi consoli e senatori romani cito Gallione fratello di Seneca lo stesso Seneca con cui ci fu una corrispondenza di ben dodici lettere di cui l'undicesima falsa falsa perché una lettera Spuria per cercare di far capire che loro non centravano con l'incendio di Roma quando invece furono proprio loro ad incendiare Roma e ne abbiamo parlato l'altra volta lo stesso da Anzio dovette correre subito a Roma Nerone rischiò di morire nell'incendio dentro la sua dentro la Domus Aurea che aveva appena finito di costruire con tantissimi soldi svuotò le casse dell'impero per ricostruire Roma con norme antincendio affinché non si ripetessero più questi incendi tutti gli imperatori sono stati demonizzati poi per coprire cosa c'era dietro il cristianesimo Stefano ma posso fare una domanda una puntata a parte quando uscirà il libro ho una domanda però Alessandro quindi tu vuoi dire che il cristianesimo fondamentalmente preferiva la repubblica all'impero però poi si è alleato con Costantino sì ma la mamma di Costantino era giudea discendente di questi personaggi lì non sono riuscito a risalire fino agli allacci da Elena a questi a questi personaggi come genealogia non abbiamo documentazioni necessarie per farlo viene detto che comunque lei era ebrea però poi io ho fatto una distinzione se ti ricordi tra ebrei e giudei in realtà questi personaggi erano giudei discendenti da Giacobbe Giacobbe padre di Giuseppe padre di Amenofi III padre di Achenaton e di Mosè e da lì siamo arrivati fino a Gesù abbiamo ricostruito tutta la genealogia molto complessa di questi personaggi Stefano mi rende conto che sono genealogie complesse certo quindi i nostri libri non sono libri da leggere sono libri da studiare beh sì sono così difficili come le persone possono pensare una volta che entrano dentro i personaggi ovviamente uno sente questi personaggi per la prima volta e non ci capisce niente quando iniziano a vedere le genealogie tutte le documentazioni che portiamo vi si aprirà uno spiraglio di luce poi quando aprirete la finestra boom vedete che cosa si nascondeva dentro il cristianesimo qui c'è un crollo totale del cristianesimo dopo due mila anni quello che sta emergendo sono delle verità storiche che escono fuori per la prima volta cioè quello che ci è stato raccontato proprio in maniera molto povera sin da bambini che Giuseppe era un fallegname e Maria si sono presentati così nella storia dell'umanità due perfetti sconosciuti che hanno avuto un figlio a parte che anche la cosa strana che a quei tempi in Palestina comunque nel mondo si avesse il figlio unico avevano sempre fratelli e invece quello che ci sta portando alla luce è molto più complesso c'è una genealogia proprio che risale addirittura a tremila anni prima di Cristo quindi ma tutti questi personaggi appartenevano alla famiglia di Ero del Grande alla famiglia di Ero del Grande e poi comunque sono arrivati a Roma e tu mi dicevi anche Gesù poi è arrivato a Roma adesso non voglio non voglio per carità si parla Svetonio quando ci dice che l'imperatore Claudio fece un editto di espulsione dei giudei istigati da Cresto quel Cresto abbiamo portato le prove che era Cristo tant'è che lo storico Rosio ci dice non si capisce quando Tito Flavio Giuseppe parla della ricolta di Cristo sotto l'imperatore Claudio se era Cristo a istigare i giudei o se i giudei erano quindi ci sta dicendo Orosio che Tito Flavio Giuseppe parlava di Gesù e di questa rivolta dell'istigazione che stava facendo verso i giudei per rivoltarli sotto l'imperatore Claudio ma attenzione perché quel passaggio di Orosio che ci dice che Tito Flavio Giuseppe parlava di questa cosa non lo troviamo negli scritti di Tito Flavio Giuseppe è stato censurato perché gli scritti di Tito Flavio Giuseppe sono stati fatti oggetto di tagli rimaneggiamenti e censure da parte di chi trascrisse poi questi scritti proprio per non far capire assolutamente niente è da pochi indizi che siamo riusciti a ricostruire poi tutto il mosaico le relazioni di parentela le genealogie ti faccio un altro esempio Eroda il Grande aveva lo storico Nicola di Damasco tra l'altro era anche un loro parente e ci dice che il re Eroda il Grande discendeva dai deportati di Babilonia Tito Flavio Giuseppe dice ah lo ha fatto per compiacere Eroda il Grande perché scriveva per lui falso abbiamo ricostruito tutta la genealogia di Eroda il Grande attraverso documentazioni storiche poi dove abbiamo visto che discendeva veramente dai deportati di Babilonia e da Gesù o Giotue sommo sacerdote che fu liberato da Ciro il Grande nel 537 dopo il periodo di 50 anni in cattività da parte di Nabucodonosor da quel Gesù e benfiglio Gioacchino siamo arrivati fino a Iadua che incontrerà Alessandro Magno Onia chiamato il giusto Simone chiamato il giusto padre di Antipatro padre di Antipa che era il nonno di Eroda il Grande ecco perché poi i fratelli di Gestra i fratelli di Gesù tutti questi qui hanno anche l'epiteto di giusto Giacomo giusto Gesù stesso chiamato giusto Giuseppe Barsarba giusto Giuda il giusto tutti quindi sono prove su prove che abbiamo trovato non solo tutti i parenti di Maria tutti legati alla casata di Onia di questi personaggi da cui discendeva anche Eroda il Grande quindi erano appartenevano tutti a questa famiglia di questi discendenti che furono liberati poi da Ciro il Grande Marta Lazzaro Maria di Betania Marta che poi sposerà Gesù dopo che venne perché Marta poi sposò Giacomo Giusto fratello di Gesù quando morirà Giacomo Giusto ucciso da Paolo di Tarso riconoscimenti omelie di Papa Clemente Gesù per levirato sposò Marta Boeto appartenevano tutti alla casata dei Boeto Maria era figlia di Simone sacerdota dell'estate d'Egitto sotto la legge Recopatra figlio di Boeto ecco ma questa casata dei Boeto sotto altro nome eccetera esiste ancora si sta tramandando nella storia oppure no come Boeto come diciamo cognome come casata c'è un parallelo dalla discendenta di Gesù nel libro I Sigari attraverso le fonti talmudiche aspetta 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 però spieghiamo chi sono anche i sicari perché se no sembra che per i più profani i sicari erano quelli che erano che erano anche asserragliati a Masada giusto erano no in questo caso I Sigari è legato proprio a Pietro ah I Sigari non come non come confessione no 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 ma questo ci sarei andato nella prossima nella prossima puntata ti leggo un piccolo passo da detto Flavio Giuseppe da parte loro Costobaro e Saul Saul e Paolo di Tarso raccolsero bande di malviventi loro stessi erano di stirpe reale e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa e abbiamo visto perché era parente con Agrippa ma erano sfrenati e pronti a spogliare le proprietà dei più deboli cioè ragazzi questa era una banda di delinquenti che rubavano ai poveri per donare i ricchi mi erano venuti all'incontrario è qualcosa di pazzesco quello che sta emergendo dalla storia di questi personaggi vabbè effettivamente proviamo a vedere se qualcuno dei nostri ascoltatori ha una domanda da fare Attilio l'ho ancora Attilio ha alzato la mano gli ho dato la parola grazie ecco poi Attilio intanto scusa intanto se volete alzare la mano vai Attilio ho due domande per favore Alessandro la prima domanda è questa dei tre ho capito io capisco molto poco perché non ho studiato come te assolutamente mitico giudizio Barabba o Gesù hanno scelto Gesù ma sono state invertite le carte non è morto Gesù ma è morto Barabba questa è la prima domanda la seconda un casato più importante come allora è quella degli erodiani a quanto ho capito come ha potuto nello spazio tempo determinare la calendarizzazione di secoli e secoli e di nazioni di continente grazie io scusami ma ho dei problemi con l'audio Stefano puoi ripetermi le domande poi ti ripeto allora alza un pochino la voce per favore Attilio allora ti ripeto nel quello che ci è stato tramandato nel mitico giudizio volete volete Gesù o Barabba no Barabba Barabba come si chiama è stato sostituito con Gesù a quanto io ne ho capito no grazie abbiamo trovato guarda abbiamo svelato anche chi era Barabba personaggio esistito appartenente sempre a questa casata parente di questi personaggi ti ringrazio Alessandro infinitamente ma poi la seconda domanda è questa una casata importantissima allora come quella degli erudiani come abbia potuto modificare o perlomeno costruire ex novo una nuova calendarizzazione un nuovo calendario che poi calendario che cosa non ho capito come abbia potuto una casata allora così importante ma è pur sempre una casata reale purché si voglia ma un calendario nuovo un nuovo calendario una nuova uno nuovo spazio tempo ecco c'è la data della nascita di Cristo che poi lo sappiamo benissimo che non è l'anno zero eccetera però è stato costruito un nuovo calendario ah ho capito vabbè lì è stato Dionisio che ragazzi perché in mezzo a tutta questa storia c'erano anche le potentissime casate aristocratiche di Roma non c'erano solamente gli erudiani diciamo che questi personaggi poi sfruttarono o comunque si allearono con gli ebrei per portare avanti i loro piani e e quindi quindi parliamo di un potere che non è solamente quello degli erudiani ma che nasce anche in seno proprio eh alla stessa Roma eh voi pensate che quella eh verenice di Ciricia diventò poi l'amante di Tito molti di questi personaggi erudiani eh vissero a Roma ecco l'imperatore Tito a cui si parla dell'imperatore Tito quindi un personaggio che cioè sono entrati nel tessuto sociale di Roma venivano proprio allevati a Roma eh insieme insieme agli imperatori eh lo stesso Agrippa stava con Claudio con Calicola fu Calicola che gli diede la regalità nel 39 a discapito di Gesù perché Gesù era l'ultimo figlio di Erode sarebbe dovuto aspettare a lui la regalità e invece che cosa fece Calicola diede la regalità ad Agrippa ecco perché poi eh ci furono rivolte contro Calicola e poi contro anche l'imperatore Claudio cioè quindi i cristiani i cristiani ebbero un peso già subito dopo diciamo la nascita del cristianesimo subito dopo che Pietro avevano un peso sociale molto importante mi trovi quei passaggi dove si dice stai uccidendo i nostri la gente del nostro popolo sul libro me lo trovi un attimo leggiamo qualcosina se la troviamo per far capire le collusioni che ci furono per farvi capire quello che successe sotto Nerone ci sono dei passaggi che abbiamo tirato fuori dove dove praticamente si appellano le persone a Cesare dicendo che sta uccidendo la sua stessa gente basta Cesare questi suono uomini nostri tu distruggi la forza dei romani stiamo parlando di Nerone quando andò contro i cristiani ma questo per farvi capire che tra questi cristiani c'erano anche i romani che si allearono con con Paolo di Tarso Pietro questi personaggi qui ma sono quantissimi passaggi ascolta una domanda che ti voglio fare io poi c'è Andrea allora nella Roma anche imperiale c'era una gran fetta di romani anche di senatori che volevano tornare alla Repubblica un po' come Brutto quando ucciso Giulio Cesare quindi con l'affermazione che hai fatto prima i cristiani fondamentalmente erano per una Roma repubblicana non e quindi non imperiale perciò hanno attichito la religione cristiana più che altro in quella fetta di popolazione romana di ispirazione repubblicana cosa scusa l'ultima cosa stavo dire allora il cristianesimo ha preso più piede in quella fetta di romani che credevano nella Repubblica nella Rex pubblica anziché nella 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 dittatura di un imperatore è per quello che hanno preso piede in questa nel tessuto sociale dell'antica Roma io direi di sì il problema poi quale era era che gli imperatori praticamente volevano deificare se stessi addirittura Calicola nel tempio di Gerusalemme mise le sue statue e si voleva fare leggere come Dio questo ovviamente agli ebrei non stava bene e ci furono varie sommosse contro contro Calicola quindi ovviamente ci fu un'alleanza con questa parte di queste famiglie erodiane in funzione proprio antiimperiale contro gli imperatori e qui abbiamo trovato la collusione di personaggi con cui era legato da motivi di parentela anche Paolo di Tarso addirittura con prefetti della guardia imperiale che uccisero gli imperatori uno di questi ad esempio era Aquila quando fece l'editto di espulsione l'imperatore Claudio espulse anche Aquila e Priscilla che poi incontrarono Paolo di Tarso e questi stavano a Roma insieme a Gesù quando ci fu questa rivolta dei giudei stiamo parlando di Aquila è un nome romano stiamo parlando di una collusione proprio tra personaggi che avevano alte cariche all'interno dell'impero consoli imperatori pro consoli addirittura prefetti della guardia pretoriana e che si allearono poi con questi chiamiamoli cristiani ma questi erodiani ecco infatti non dimentichiamo e poi posso la parola Andrea che dal 180 dopo Cristo in avanti gli imperatori venivano nominati proprio dai pretoriani ecco erano loro che facevano la nomina e nonché dall'esercito allora la parola Andrea chiude non rammento Andrea buongiorno da dove chiami? buongiorno Stefano buongiorno De Angelis lo chiamo da Savona ciao ciao purtroppo non ho ascoltato la trasmissione dall'inizio quindi ascolterò il podcast stasera volevo chiedere però una cosa che è da un po' che ci penso su cioè senza entrare nel merito di delle teorie di De Angelis perché comunque mi sembrano abbastanza verosimili e poi supportate dalle fonti però il mio dubbio è un altro cioè un po' più filosofico se volete cioè il fatto che allo stesso modo per esempio io condivido il giudizio negativo che ha De Angelis verso chi propina una una stirpia aliena per questo diciamo vuole magari vuole portarci in una certa direzione transumana mi chiedo però se alla fine dei conti anche questo questo disvelamento del Gesù storico così come viene proposto non ci porti verso la stessa direzione cioè il desacralizzare tutta la cristianità che va è tutta al di là della storicità di Gesù se non facciamo un favore al deep state praticamente ci stai dicendo allora il problema è un altro nel senso che la nostra spiritualità è indipendente dalla storicità di Cristo anche il messaggio cristiano è indipendente dalla storicità di Cristo io ho ascoltato anche un suo confronto con un vescovo credo della chiesa ecumenica però questa chiesa ecumenica mi sembra di aver capito che è su posizioni molto progressiste e va esattamente nella stessa direzione del deep state quindi mi chiedo ma non è che questa questa sua ricerca è sempre funzionale a questa diciamo questa prospettiva per noi nefasta si si ci rispondo sarebbe stato funzionale se non fossimo arrivati fino all'origine del potere cioè ai kurgan che distrussero le società matriarcali anzi matrilineari e società equalitarie che vivevano senza religioni senza guerra e senza nessun tipo di potere da lì abbiamo allacciato la genealogia fino agli israeliti e fino a Gesù ovviamente che siano alieni che siano dei che sia Dio che siano personaggi mitologici inventati perché non si scopra la verità perché nel momento in cui si scopre che questi sono personaggi umani uguali a noi ovviamente diventano attaccabili nel momento in cui invece queste persone ci vengono a dire sono degli alieni sono i rettiliani che sono al potere e sono loro che al vertice che hanno sotto di loro i nostri politici e i nostri governanti capisci bene che un conto è attaccare degli esseri umani un conto è che ti devi andare a scontrare con qualcosa che è al di sopra di te come tecnologia quello che vuoi e che sia totalmente esterno a questa all'uomo tra l'altro perché ho detto favorisce il transumanesimo l'eugenetica di dire che noi siamo siamo stati creati attraverso modifiche genetiche da questi alieni totalmente falso perché abbiamo tutto per dimostrare il contrario loro non portano assolutamente nessuna prova di questa cosa qui perché tu tendi ad accettare il fatto che la nostra evoluzione sia stata ci sia stata data attraverso questa modificazione del DNA e quindi rimani condizionato favorevolmente poi a tutto il progetto del World Economic Forum e il progetto Davos dove possono portare avanti la modificazione del DNA microchip di tutto e di più è assolutamente il contrario ora per quanto riguarda Gesù nei nostri scritti noi abbiamo chiarito la questione dimostrando che Gesù poi apparteneva tra l'altro alla setta dei terapeuti di Alessandria d'Egitto e questi terapeuti vivevano in comunità egualitaria era un ritorno dove tutto veniva messo e distribuito in maniera equanime tra di loro non c'era chi possedeva più di un altro quindi era un ritorno proprio all'origine a quelle società matriarcali matrilineari che furono distrutte dai Gurgan con cui poi si passò al patriarcato e con cui poi nacque questo porere piramidale che ci domina da cinque mila anni non solo se voi leggete il Vangelo di Tommaso Gesù era contro l'usura e contro il prestito quindi si scagliò contro questa cosa qui diverso invece a Paolo di Tarso che si alleò con il potere quindi dovremmo distinguere il Gesuanesimo dal Cristianesimo cioè quello che portava avanti Gesù da quello che portava avanti cioè il gioco di potere di Paolo di Tarso da cui poi nacque il Cristianesimo Andrea la prossima volta perché siamo già usciti fuori tempo veramente c'era non rammento non rammento abbiamo altre mani alzate però purtroppo non rammento salve mi si sente? ciao buongiorno sì ciao sì ciao non le salvo a Napoli volevo sapere come tutta questa mistificazione del culto di Gesù probabilmente l'hai già spiegato precedentemente ma non ho ancora visto i video dopo lo spieghi come si riallaccia con tutto il culto di Mitra e successivamente con tutti quegli altri culti che hanno fatto probabilmente anche riallacciati alle varie ere che ci sono come quella del toro quella dei pesci quella del capricorno e poi quella dell'acquario che dovrebbe esserci adesso sì abbiamo spiegato in puntate precedenti come poi tutti questi questi culti e questi personaggi derivino da personaggi antecedenti e da archetipi di storie accadute dovrei dovresti andare sulle prime trasmissioni sui kurgan dove poi parlo di bal svelo chi era Yahweh di bal di Tammuz Tammuz risorcerà nel dio sole bal quindi da bal poi diventerà baladad il crono ellenico e il dio sole a roma quindi c'è stato poi un sincretismo continuo ma lo stesso culto di serapide in serapide troviamo praticamente lo zeus ellenico sincretizzato con l'osiride egizio come culto osiride sincretizzava sia Yahweh che ball il dio solare il culto dimetra era il culto più in auge tra i legionari romani gli ufficiali romani con Cleopatra si cercò di far sbarcare il culto di Iside a Roma ma tutti questi personaggi sono tutti discendenti kurgan che vennero divinizzati e poi deificati esseri umani che non avevano nessuna facoltà paranormale o sovrannaturale e quindi ragazzi le religioni hanno sempre avuto una funzione molto importante per accompagnare questo potere ieri come oggi se io oggi ti dico i nostri governanti sono alieni sono rettiliani capisci bene che è diverso dal dire al vertice del potere c'è Stefano Becciolini Stefano Becciolini è attaccabile ma se Stefano Becciolini è un alieno che viene da un'altra galassia con tecnologie superiori alla nostra e addirittura ci fanno credere che è stato lui che ha modificato il nostro DNA e ci ha creato la cosa cambia no Stefano? beh questo sì è vero quando c'è l'essere umano normale è attaccabile vanno a cercare di scavare il tuo passato si è rubato una mela e invece l'essere alieno e quindi qualcosa di alieno di fuori della terra con una tecnologia come dici tu più avanti con una spirituale sono inattaccabili quindi loro possono fare dire sì guarda io sto veramente sto riflettendo molto su quello sulle nostre puntate perché stai spostando la bilancia di molte persone sì perché un conto è avere delle teorie senza fare nomi alla MB teorie qualcuno dice provate con testi biblici eccetera è un conto avere come fai tu questa questa genealogia del degli eroe di anni che è così dettagliata quindi andiamo avanti così perché sta veramente diventando una una trasmissione che aprirà gli occhi a molti poi magari non è neanche così però ragazzi noi nelle puntate che noi stiamo facendo con Alessandro De Angelo le lezioni di storia italiani brava gente ordine caos con Cosimo Massaro non è che vogliamo portare delle verità vogliamo solo analizzare in maniera seria determinate cose poi sta a voi no con la vostra capacità di analisi vedere quali sono le teorie migliori giusto Alessandro non è che nessuno di noi Stefano io ho sempre chiesto di interfacciarsi a confronto pubblico sia queste persone che portano avanti la bufala della palle astronautica sia professori universitari che esperti di cristologia di testi di Nag Hammadi di Qumran per venire a confutare le prove che portiamo perché poi quando si portano dei documenti hai voglia a dire perché non si deve parlare di prove storiche ma di teorie di ipotesi no quando ci sono una serie di prove che e dei documenti che convergono in un'unica direzione si deve parlare come di prove che ribaltano tutto quello che ci hanno raccontato quindi io sono disponibile a fare confronti con chi volete poi scusami Alessandro non è che la ricerca storica e la verità poi stride con la fede secondo me perché tu l'hai detto anche prima Gesù faceva parte diciamo di una setta dove insomma la diciamo la condivisione dei beni il cristianesimo o come tu lo chiami il gesuiesimo non mi ricordo come l'hai chiamato ecco voleva la pace voleva ecco quindi secondo me sono due cose che vanno da parte opposta la spiritualità è tutt'altra cosa quindi anche se Gesù non fosse morto in croce e non fosse risorto il terzo giorno magari qualcuno potrebbe scardinare i pilasti della chiesa cattolica però a me non cambierebbe niente se io se credessi va bene Alessandro allora siamo in chiusura abbiamo fatto un'ora e mezza come sempre e avevamo altre persone però veramente siamo fuori tempo io ti ringrazio Alessandro adesso l'appuntamento è tra due settimane di cosa ci parlerai la prossima settimana la prossima settimana andremo su Gesù sulla come si salvò dalla crocifissione e verificheremo poi come Gesù sia ancora in vita e come morirà nel 68 dopo Cristo durante la prima guerra giudaica e quindi potremo anche leggere delle parti molto importanti di Tito Flavio Giuseppe dove ci parla proprio della morte di Gesù e la fine che fece nel febbraio del 68 dopo Cristo durante proprio questa prima guerra giudaica quindi per la prima volta abbiamo trovato dei veri discorsi che Gesù pronunciò non quelli delle parabole dei Vangeli dove emerge una figura completamente diversa da quella che ci hanno proposto fino ad oggi la figura ecco non anticiparci niente Alessandro cosa? non anticiparci niente no no non anticipiamo niente che sarà una puntata veramente straordinaria perché verranno dette delle cose molto molto diverse da quelle che noi pensiamo che la Chiesa Cattolica ci ha insegnato fino adesso Alessandro io ti ringrazio grazie per il tuo lavoro grazie per essere qui ospite ogni due settimane e ci vediamo tra due settimane ok? grazie a tutti grazie allora io ringrazio tutti prima di chiudere vi ricordo due cose noi facciamo informazione libera e indipendente se volete che continuiamo a farla non abbiamo padroni non abbiamo finanziatori non ne avremo mai potete andare sul sito www.beciolininetwork.com menu sostienici e lì potete fare le donazioni con carta di credito con conto corrente con post e pay e non fate una donazione a un'associazione ma a una partita IVA quindi a un editore seconda cosa importantissima e non mi stancherò mai di dirlo di ripeterlo no alla guerra sì alla vita da Stefano Becciolini questo è tutto buona giornata a domani col punto di vista ore 9.30 ciao grazie a tutti Grazie a tutti.